Presidente, buongiorno, ben trovato e grazie della visita davvero, grazie. Si accomodi. Buongiorno, grazie davvero. Grazie. Accomodato, prego. La tragedia della Novi è stata, come la stagione qui? A Bologna è capoluogo particolarmente seria, applicato per il numero di popolazioni qui in Botta, abbiamo avuto 1.400 luoghi della città che sono stati allagati, che significa anche case, non solo garage, quindi abbiamo avuto diverse persone che hanno messo anche. All'inizio erano 500 nel capoluogo e 2.500 su tutta l'area metropolitana, abbiamo abbastanza recuperato, sono una decina di persone nel capoluogo che sono ancora in albergo, qualche centinaia nell'area metropolitana ancora. Tutti sono stati aiutati a recuperare? Sì, sì, sono tutti seguiti, però alcuni hanno perso la casa e dovremmo capire come fare. Sono molto spaventati perché hanno perso la casa in centro città, perché il Ravone è inimmaginabile, sono dei torrenti sotto, noi abbiamo 40 km di canali, alcuni sono tombati. Grazie.